Ti manca il corso di inglese? Ecco la soluzione per te. Corso di inglese gratis e online. Comodamente da casa tua. Lezioni interamente gratuite. Non devi comprare nessun materiale. Iscrizione 20 euro, una tantum. Due livelli, avanzati ogni lunedì dalle 20 alle 21. Principianti ogni martedì dalle 20 alle 21. Sei interessato? Iscriviti e scarica Zoom sul tuo cellulare, tablet oppure computer. Prima lezione, per tutti, il 9 febbraio 2021. Per l'iscrizione, troverai tutte le info sulla descrizione del video. Ti aspettiamo, English Lessons Hub e corso d'inglese.